Grazie per essere qui, do il benvenuto a tutti e tutti gli ospiti che sono venuti qua oggi, grazie. Adesso incomincerà il dibattito che abbiamo deciso di chiamare Capire e Pensare il sistema agroalimentare contro l'agroindustria e per iniziare volevamo spiegare le motivazioni che ci hanno portato a selezionare questa tematica. Ovviamente l'agricoltura assume un ruolo cruciale in questo periodo storico che stiamo vivendo, l'agricoltura è uno dei settori più impattati da questa crisi climatica e ambientale che è appunto sulle bocche di tutti, di cui parliamo spesso, sentiamo parlare spesso al telegiornale non solo. L'agricoltura però appunto sta subendo questo impatto negativo anche alla luce dell'agroindustria che appunto ne determina la produzione. L'agroindustria è uno dei settori che a sua volta impatta di più il clima e l'ambiente che ci circonda e quindi insomma rientra in un circuito che si autodistrugge, quindi appunto l'agroindustria possiamo considerarla come uno di quei settori che sono stati col tempo sempre più centralizzati, quindi caratterizzati appunto dai monopoli, da un accentramento del profitto che è tipico delle nostre società capitaliste e quindi ci sembrava importante appunto andare ad analizzarlo e andare ad analizzare anche le alternative che si oppongono adesso. In questo periodo storico ricordiamo anche che le conseguenze di questa crisi capitalistica che si è anche espressa poi con il conflitto bellico in corso ha dato un nuovo impatto anche sui costi, i fertilizzanti sono aumentati, il costo dei fertilizzanti è aumentato quindi del 170% per cui i costi di questo sistema si sono poi andati ovviamente a scaricare sulle frange della popolazione più deboli, quindi anche e soprattutto in questi momenti di crisi, di conflitto in cui ci troviamo poi questi sistemi centralizzati si vedono come fragili e in realtà insostenibili proprio per definizione. Adesso lascio la parola a Maria che introduce anche gli altri ospiti. Sì, ciao a tutte e tutti, appunto siamo qui con, presento brevemente gli ospiti, Maura Beneggiamo, segnista giusto all'Università di Pisa, ricercatrice all'Università di Pisa, Gabriele Proglio che è professore all'Università di Pollenzo, Michele che arriva da Bologna e dell'esperienza di Campi Aperti e Nicolò che invece arriva da Firenze e l'esperienza di Mondeggi. Quindi come avrete capito i piani del dibattito sono due, sia la critica all'agroindustria come anticipava Ludovica, sia quello però di interrogarci sulle alternative che oggi vengono sviluppate sul territorio e capire anche, capirne i limiti. Più che i limiti, le difficoltà, i limiti. Rimaniamo con questa parola per poi andare a capire meglio sul piano pratico di cosa stiamo parlando. Quindi io passerei direttamente la parola a loro con una prima domanda che riguarda proprio l'agroindustria, come oggi, diciamo, cosa implica, quali sono i meccanismi di accentramento che loro hanno studiato più da vicino, dai quali sono partiti per pensare delle alternative in alcuni casi o i limiti sui quali riflettono e sviluppano la loro critica. Vi passerei la parola per un primo giro di interventi, di modo che anche tra di noi partiamo da delle basi comuni per poi andare a approfondire degli aspetti più specifici. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono contenta di essere qua e anche di essere in buona compagnia così penso che la discussione potrà essere interessante. Sull'agroindustria, sì, io mi sono occupata di agroindustria più o meno a partire dal 2012 appunto nell'ambito delle mie ricerche e in realtà mi ci sono interessata, io venivo da ricerche sull'estrattivismo, quindi su questioni, beh adesso si parla di agroestrattivismo quindi non è completamente fuori fuoco, però mi occupavo soprattutto del rapporto di come l'estrazione e la messa in circolazione delle risorse avesse a che fare anche con determinate produzioni di territori e soggettività. Poi nel 2012 per una serie di questioni sia di ricerca che di vita mi sono imbattuta negli investimenti italiani all'estero, in particolare in Senegal, dove appunto l'Italia è stato tra i principali, gli investitori italiani sono stati tra i principali accaparatori di terre, la questione dell'end grabbing su cui poi penso ritornerai anche tu, che non so adesso se penso che sia un termine comunque che più o meno conosciamo e che ha a che fare appunto che a partire dal 2008, che non è una data a caso perché è la data appunto della crisi alimentare, della più recente crisi alimentare e della crisi economica, c'è stato un enorme movimento di passaggio di mano di terra che ha colpito in particolare l'Africa subsahariana con dei trasferimenti di terra che non hanno avuto precedenti dall'epoca coloniale. Quindi io mi sono interessata a questa cosa, questi investitori italiani, questi investitori italiani investivano in particolare per agrocarburanti, gli agrocarburanti erano in quel contesto uno dei principali vettori, oltre a quello c'era proprio un interesse primario sulla terra come un elemento che poteva avere molteplici funzioni di valorizzazione dentro un'economia capitalista che iniziava a porsi seriamente il problema dei limiti, dei limiti delle risorse, della scarsità di acqua, della difficoltà di ottenere terre fertili e anche dentro, e questo è stato il modo in cui io in qualche modo, la ragione per cui sono arrivata a questo, dentro un capitalismo che iniziava a vedere nella natura in senso lato molteplici possibilità di valorizzazione, cioè siamo nel pieno di quella che è la cosiddetto capitalismo verde, quindi la capacità di mettere a profitto le capacità stesse del vivente di produrre, produrre cosa? Beh produrre processi chimici, biofisici, servizi ecosistemici, quello è il nome che veniva dato. Molto brevemente, tenetemi i tempi, scusate io non voglio andare, perché poi magari ritorneremo su questa cosa, però questa cosa succedeva nel 2008 e diciamo che già nel 2012 ma con più forza nel 2016 esce un report Land Matrix che appunto era il principale database che cercava un po' di catalogare questi investimenti che dà un dato importante e cioè che una buona percentuale, mi azzarderei a dire quasi un 70% di questi investimenti ha incontrato diciamo destini fallimentari, cioè cosa vuol dire? Che o sono stati ridotti o come nel caso degli investitori italiani sono scappati, sono andati via, hanno abbandonato l'investimento. Magari ci sarà modo di tornare su questa precisa esperienza, però perché arrivo qui e poi chiudo, per dire che questo abbandono è un po' significativo perché ha a che fare con il venir meno di un sogno che dentro il rapporto capitalismo-natura in qualche modo di una promessa che era stata fatta in quel periodo, c'è della possibilità effettivamente di mercificare il mondo per poter aumentare il fabbisogno di cibo e, scusate, l'offerta di cibo, la mitigazione, parliamo di stili sequestri e allo stesso tempo però creare arricchimento e crescita. C'era un'idea che in qualche modo là dentro ci fosse una possibilità. Ecco, questa cosa è entrata un po' in crisi, anche qui vado veloce, poi ci torneremo e adesso se noi andiamo a vedere quali sono le trasformazioni dentro l'agroindustria che secondo me sono interessanti perché ci danno la chiave di nuove strategie, nuove paradigmi che emergono e abbiamo tutto un interesse per l'agroindustria a risollevarsi dalla terra, cioè abbandonare l'agricoltura, abbandonarla un po' a se stessa, abbandonare anche gli agricoltori e infatti adesso se noi andiamo nei think tank o dentro vediamo cosa è finanziato sostanzialmente abbiamo due grossi spot, mi chiudo poi ci torneremo, uno ha a che fare con tutto quello che viene chiamato animal, scusate me lo sono appuntato perché la formula inglese è transizione dalle proteine animali quindi il tentativo di avere a che fare con forme proteiche che non siano direttamente legate all'allevamento e l'altro è creare degli ambienti agricoli completamente automatizzati e controllati quindi è tutto il tema della digitalizzazione, dell'agricoltura verticale e via dicendo. Chiudo brevissimamente dicendo che questo passaggio è importante su tre livelli quindi il primo ha a che fare che ci fa vedere che dentro questa dinamica come dire la promessa, l'economia verde sfuma un po' ma ci torneremo e l'altro elemento è appunto che abbiamo come dire tutta una serie di nuovi attori che entrano abbiamo un rapporto tra digitale e mondo del biotech che si stringe molto di più ma abbiamo anche un'idea per cui fare agrobusiness significa occuparsi di molecole, lipidi, applicazioni, dati e poco importa se poi queste cose serviranno a produrre un formaggio, una bistecca o un cavolfiore iniziamo a vedere come volevo marcare questo passaggio poi avremo modo di ritornare Allora buonasera a tutti e a tutti anche da parte mia grazie per l'invito io proverò invece a partire da un'altra prospettiva che è quella più mia io sono uno storico orale, sto facendo un lavoro sul caporalato in Piemonte e parto a questo punto subito da una citazione un amico collega che di ritorno da Saluzzo mi dice sballordito lui è originario di Imperia, di Sanremo, abita a Milano quindi non conosceva Saluzzo, vede questi campi, queste piantagioni e dice ah no, sembra veramente peggio di una fabbrica e sul momento siamo rimasti lì poi in realtà siamo andati a fondo di questa frase e un ragionamento storico su questo è secondo me centrale dal punto di vista storico la costruzione di un mercato che è detto territorializzato cioè dove il cibo circola a livello globale nasce proprio dalle piantagioni con gli schiavi prima ancora dell'enclosers, della cacciata dei contadini XVII, XVIII, XIX secolo prima ancora di questo c'è lo scambio, la triangolazione tra l'Europa, l'Africa il carico di schiavi è d'arrivo prima nei Caraibi e poi nell'America e di lì il ritorno dello zucchero lo zucchero da sempre ha una bianchezza che è quella di segnare quello che poi è stato definito rascia il capitalismo, cioè un capitalismo che è razzializzato che costruisce sulla razza una differenza sostanziale oggi viviamo una situazione in cui c'è un'altra forma di deterritorializzazione c'è un mercato globale in cui a tutti i livelli a tutti i livelli dalla produzione fino alla grande distribuzione le modalità di estrattivismo, di fare cassa, di costruire valore, guadagno cerca di sfruttare tutti, veramente tutti i lati possibili e immaginabili faccio due esempi partiamo dal livello più base, così introduciamo la questione dell'agroindustria il campo ora, il fatto che a Saluzzo la manodopera sia principalmente di persone che arrivano da altri territori non italiani che siano principalmente persone che non hanno i documenti o che hanno situazioni di difficoltà o ancora che hanno documenti come rifugiati richiedenti asilo quindi un'ampia gamma di soggetti è legato ovviamente a una domanda quella che viene chiamata inclusione differenziale cioè i confini funzionano in due maniere una parte definiscono l'espulsione non potete entrare dall'altra invece sì, forse tu per come sei per come arrivi per quello che sei per il colore della tua pelle per il tuo genere per la tua età, eccetera puoi diventare braccia e gambe da lavorare in piantagione uso questo termine perché non è molto diverso dallo schiavismo con differenze sostanziali perché gli schiavi non avevano uno statuto vero e proprio ma è anche vero che nelle piantagioni non c'erano solamente gli schiavi c'erano anche persone che erano trattate come schiavi ma che avevano invece degli altri status a livello di cittadinanza quindi perché poi qual è il collegamento tra la grande distribuzione e il lavoro a saluzzo il kiwi per capirci il lavoro, il collegamento è che chiaramente la grande distribuzione per grande distribuzione parliamo di tutti cito l'IDL perché c'è un processo in corso rispetto a questo tipo di di grande distribuzione e ne parlerò tra un secondo chiaramente il lavoro come funziona la grande distribuzione è sintomatico su da dove arrivano i guadagni ovvero vuoi mettere i tuoi kiwi sul direttamente in esposizione benissimo allora devi pagare delle fee tu produttore devi pagare delle fee devi pagare qualche cosa a noi che ti mettiamo i kiwi in esposizione si lavora principalmente a livello di costo di cavo cioè sostanzialmente il guadagno è quasi azzerato il guadagno della grande distribuzione il più delle volte viene fatto sui produttori ed è chiaro a questo punto che i produttori per avere un loro guadagno il guadagno che loro costruiscono è sul lavoro cioè quindi sfruttare, pagare il meno possibile il lavoro e come pagare il meno possibile il lavoro in questa maniera attraverso il capolarato parlavo prima di LIDL perché non c'è solamente questo livello ci sono anche altri, provo a citarne due e vado velocissimo il primo è le infiltrazioni mafiose parlo di LIDL e il caso è questo c'è stato un processo in corso in alcuni supermercati per proprio la questione di come alcune coste o affiliati o persone che lavorano per questo sistema hanno avuto dei rapporti con dei dirigenti o comunque dei soggetti molto importanti all'interno di questa catena per ovviamente avere un provvigionamento quindi c'è ancora questo livello c'è il livello ancora della distribuzione cioè i corrieri, la logistica anche qui problematicità sia a livello di lavoro sia a livello di distribuzione perché ovviamente spostare un mango dall'altra parte del mondo sull'Italia significa sicuramente inquinamento costi e di nuovo sfruttamento lavorativo e poi ci sono altri livelli che sono invece più sotterranei che spesso non prendiamo in considerazione o che non vengono visti direttamente sul prodotto finito sono quelli per esempio delle sementi dimenticavo un dato sui lavoratori nei campi agricoli tanto per dirvi qual è il livello dell'ultimo report proprio sul caporalato definiva due percentuali nord e sud al nord è la percentuale di uno su quattro mentre al sud è di uno su tre perdone, uno su cinque al nord quindi un lavoratore su cinque in nero al sud invece la percentuale aumenta dicevo, l'altra parte interessante è la questione sui semi negli ultimi due anni e vado a chiudere velocissimo gli ultimi due anni le grandi corporation che lavorano sulla genetica quindi sui semi quello che si diceva prima su come lavorare a livello biologico il prodotto e che cosa può durare hanno fatto delle fusioni quindi vuol dire che una percentuale altissima delle sementi e in mano a pochissime pochissime veramente cinque, sei aziende multinazionali questo ha impatto sia a livello di perdita del patrimonio della biodiversità a livello non solamente locale ma a livello globale e anche dal punto di vista poi di che cosa mangiamo e infine la questione del land grabbing e chiudo veramente ora, di nuovo questo sistema di grande distribuzione di filiera lunga funziona sul fatto che non solamente io sfrutto nel campo citavo Saluzzo ma può essere Pacchino può essere qualsiasi altro posto ma anche sul fatto che vado a recuperare a occupare a cacciare delle popolazioni Harvey diceva accumulazione per espropriazione cioè in realtà il termine non è esattamente quello perché il termine in inglese eviction è proprio cacciata diretta no? cioè quindi violenta quindi il ritorno della violenza e questo secondo me è un altro livello cioè vado a prendere in Africa e non lo fa solamente l'Europa lo fa anche la Cina lo fa anche l'India dico l'Africa ma può essere qualsiasi altro sud le terre per produrre del cibo non solamente vegetale ma anche allevamenti che poi rimetto su un sistema che riproduce tutto quello che abbiamo detto quello che ho detto prima chiudo qui e lascio la parola grazie allora ciao a tutti io parto un po' dalla tua domanda da dove siamo partiti che aiutano intanto grazie a essere qui in tanti che insomma non è una cosa così scontata ve lo dico perché è un po' di anni che facciamo queste cose e non è facile portare questi temi negli spazi sociali ma neanche nelle città insomma noi siamo una piccola una realtà ormai un po' consolidata che è nata veramente da quattro contadini una ventina di anni fa noi siamo partiti a Genova siamo partiti a Genova ritrovandoci in quel movimento e ritrovandoci per la prima volta con altri contadini da tutta Italia e anche dal resto d'Europa a riflettere la prima volta con dei compagni e compagni anche di lavoro che diciamo criticavano il sistema appunto agroindustriale di cui stiamo parlando ma lo criticavano tutti i giorni con le proprie mani cercando di creare un'alternativa e quindi in questi vent'anni questo tema l'abbiamo diciamo praticato e coltivato e ci abbiamo riflettuto però spesso molto da soli ecco noto con piacere che negli ultimi anni anche grazie all'impatto che i cambiamenti climatici che il tema della riconversione ecologica delle nostre vite anche delle città e della sovranità alimentare insomma sta entrando un po' nel dibattito pubblico e politico a più ampio livello insomma mi lascia ben sperare ecco che questa cosa possa avere più forza di quello che noi come un po' movimenti contadini abbiamo potuto fare anche perché siamo sparpagliati come sapete i contadini un po' in tutto il mondo ma nel nostro paese sono la parte di solito più arretrata politicamente anche nelle lotte a parte le grandi lotte per la terra poi di fatto i contadini sono culturalmente l'ala conservatrice in Italia storicamente legate alla chiesa legate alle tradizioni mentre c'è bisogno di un grande rinnovamento della nostra agricoltura del modo di produrre cibo e del modo di distribuirlo per tutta una serie di questioni quindi dicevo noi siamo partiti lì confrontandoci con altri come noi che all'agricoltura industriale diciamo avevano chiaro fin da subito che quella non era la risposta alla domanda di cibo di cibo sano di un lavoro etico e sostenibile per nessuno di una sostenibilità per l'ambiente per la biodiversità quello lo conoscevamo già avevamo tutti tentato altre strade e quindi la strada nostra è quella dell'agricoltura contadina l'agricoltura di prossimità che costruisce mercati locali un'economia solidale circolare diciamo a stretto contatto con i consumatori infatti i campi aperti è una realtà fatta di contadini contadine e coproduttori coproduttrici che è una realtà autogestita che si basa su un'assemblea e gestisce mercati fa varie cose ci troviamo però appunto a a immaginarci un modello che desideriamo ma ancora non è ma ancora non è sostenibile soprattutto vent'anni fa ancora non dà così bene da mangiare e neanche adesso ma poi ci torneremo quando parliamo più avanti della questione prezzi e altro però ci troviamo in quel momento insieme a tutta anche la lotta diciamo che allora si chiamava altro mondista terzo mondista insieme alla maggior parte dei contadini del mondo che sono contadini di fatto come noi cioè i dati fa o di qualche anno fa non ne ho visti aggiornati però non sono cambiati tantissimo comunque continuano a dire che l'80% della situazione mondiale è sfamata da piccolissimi contadini che hanno meno di un ettaro di terra o poco più e siamo in una situazione più o meno italiana cioè la maglia poderale italiana è 6-7 ettari al di là del fatto che le grandi corporation le banche si sono comprate le terre migliori in questi anni di crisi di non sappiamo dove mettere i soldi hanno investito il land grabbing il nostrano ha accapparato i reni però la maggior parte dei terreni della nostra penisola sono ancora gestiti da piccole piccolissime realtà contadine appenniniche costiere eccetera tutta questa gente qua è fuori dal mercato è fuori dall'agroindustria non fornisce la gran distribuzione è fuori da qualsiasi circuito e si arrabatta per sopravvivere questo cibo noi non ce l'immaginiamo soprattutto qui in città che fa la spesa al supermercato ma in tutto il resto del mondo invece è quello che nutre la gente quando noi spesso finisce in canali un po' parentali amicali autoproduzione e poco altro oppure svenduto per qualche distributore che finisce poi anche nei canali commerciali ecco dico questo perché il modello dell'agroindustria è sì insostenibile per tanti motivi un altro modello è ancora da costruire ci stiamo provando però è quello che dobbiamo fare nel senso che non c'è una strada al di là delle strade che diceva prima Maura cioè dove sta andando adesso il grande capitale a investire la produzione di cibo industriale nel vero senso della parola che non ha quasi più bisogno della terra il cibo sintetico le carni gli allevamenti di insetti dentro i capannoni piuttosto che l'agricoltura verticale o il capannone il condomino dei maiali cinesi l'avete visto tutti in queste settimane quanto è angosciante quella situazione maiali allevati in un condominio di nove piani quella è produzione industriale che non ha più bisogno della terra però comunque la maggior parte delle popolazioni del mondo si nutrono ancora d'altro noi stiamo facendo altro come facciamo a fare in modo che questo altro diventi per tutti sia accessibile e sia anche accessibile a chi lo vuole praticare in senso sostenibile dal punto di vista economico per chi ci lavora perché poi lui ha parlato dello sfruttamento delle piantagioni e noi l'abbiamo visto abbiamo avuto relazioni appunto con molti compagni che lottano appunto contro queste cose abbiamo sostenuto per anni i compagni di Rosarno sulla questione degli agrumeti nel sud Italia conosciamo anche quelli di campagna di lotta saluto e quelli che fanno il pomodoro le lotte dei comitati dei braccianti nella Capitanate in Puglia in Basilicata detto questo dall'altra parte nella piccola agricoltura contadina nonostante i circuiti alternativi gruppi d'acquisto il mercato gestito si parla molto chiaramente di autosfruttamento di noi stessi di quanto cazzo poco ci paghiamo noi per fare in modo che questa roba sia accessibile alle persone perché comunque l'agricoltura sostenibile ecologica senza chissà quali sementi OGM o concimi chimici eccetera è faticoso è dura ci vuole tanto lavoro e il lavoro costa e non riesce a pagare quindi questo è un altro tema che vi introduco vi incuriosisco per il dopo però è strettamente legato alla critica al sistema agroindustriale sono tanti temi che sono venuti fuori diciamo che su quest'ultima cosa mi viene da dire che la necessità del cambio di stile di vita sia per il periodo storico in cui ci troviamo evidentemente necessaria con questo mi intendo lo spostarsi dalla città verso il rurale o come un controesodo cosa che sta avvenendo un po' almeno negli anni di covid si è visto tante persone avvicinarsi a esperienze di questo tipo però anche diciamo il cambio parto da una distinzione per spiegare questa cosa il concetto di agricoltura secondo me può essere differenziato in due modi appunto hai da una parte l'agroindustria la versione capitalista di come fare agricoltura e quindi l'impiego di lavoro salariato e quindi il meccanismo economico per cui il giochino funziona con i soldi dall'altro lato hai l'agricoltura contadina in cui non si punta all'economia della cosa ma si punta alla soddisfazione dei bisogni quindi piuttosto che mercificare un prodotto che mi serve per vivere lo utilizzo e lo produco pensando a soddisfare dei bisogni quindi a soddisfare dei bisogni non per un mercato ma per una comunità di persone in questa distinzione si si vede se uno guarda a livello storico nei secoli un'opposizione tenace tra le due versioni quando parlo di cambio di stili di vita intendo che uno non vada a guardare alla soddisfazione dei bisogni cioè questo anche perché si si deve alimentare e non ha modo di prodursi le cose mettersi nell'ottica di di vedere qual è un prodotto che è più genuino e più salutare piuttosto che prendere un qualcosa che lo lo riempia ma non lo nutra ecco ora vi metto un attimo nel quadro di cosa faccio normalmente io il circuito di genuino clandestino l'ho conosciuto insieme a un gruppo di studenti e una comunità di persone di Firenze da Agraria abbiamo conosciuto un po' di contadini della zona e in un percorso sull'accesso alla terra e anche sulla cultura di come fare agricoltura visto che ce l'hanno insegnato solamente il metodo agroindustriale almeno per l'università che frequentavo io vedere che altre proposte c'erano per non rientrare in quel metodo e quindi abbiamo conosciuto i contadini della zona da lì ci siamo agganciati alla rete e nel tempo di un anno abbiamo individuato un posto che potesse essere la nostra punto di approdo per l'accesso alla terra si è creata una rete sul territorio che ha cominciato a gestire un bene pubblico grande di base deruralizzato nel tempo nel senso che da quello che erano poderi contadini sotto un padrone nobile però era stato negli anni 80 messo un assetto industriale all'agricoltura del posto quindi grandissime olivete quindi tanti vigneti siamo nel Chianti c'è quasi solo quello con una comunità di persone dal 2014 abbiamo occupato quel posto in maniera tale da rivendicarsi l'accesso alla terra e delle produzioni contadine quindi non investire su macchinari ma con i soldi ma investire con l'energia delle persone e della comunità si è allargata la cosa e abbiamo trovato anche modalità alternative di organizzarsi rispetto all'agricoltura che non fossero verticistiche a livello aziendale ma fossero orizzontali all'interno della comunità quindi sul lato delle critiche che uno può fare all'agroindustria secondo me la prima è l'impalcatura cioè proprio da dove si parte si vuole che sia un prodotto alimentare per nutrirsi o si vuole che sia merce da lì a cadere vengono tutto il resto viene il fatto che uno la possa assimilare a una fabbrica che ci sia lo sfruttamento delle persone che chi non è d'accordo e vedi chi si autogestisce nel mondo rispetto alla produzione di cibo venga represso da centinaia di anni e insomma per me si parte da lì poi posso grazie grazie mille mi sembra appunto che uno dei temi che sia poi stato che è stato ripreso più volte è quello sicuramente dell'accentramento e volevo riprendere anche un passaggio di questo libro che invece è un'inchiesta di Ciconte Liberti si chiama il grande carrello che parla invece dei supermercati quindi per aggiungere qualche elemento per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata è un accentramento sicuramente di risorse ma anche di informazioni quando guardiamo ai nostri consumi al nostro modo di consumare oggi quindi sempre pensare anche appunto l'impatto della GDO nell'accentrare informazioni in particolare vi leggo un passaggio che riguarda diciamo come i consumi vengono indirizzati e monitorati costantemente quindi spiegano il successo delle diverse insegne della grande distribuzione organizzata sta proprio nel cogliere questi mutamenti e indirizzarli mutamenti del consumo nessun sondaggio è in grado di scattare una fotografia più esaustiva completa e organica della società di quanto possa fare il database di un supermercato che registrando le rese gli stocchi il venduto ha in tempo reale il polso di come cambiano i consumi nessun partito è in grado di rispondere con la stessa celerità e gli stessi strumenti alle richieste che arrivano dalla società i consumatori chiedono cibi più grino senza glutine mentre la politica si avvolge in se stessa la GDO ha già portato sugli scaffali l'articolo più adeguato per i celiaci le confezioni che riportano ben visibile la dicitura senza olio di palma il prodotto vegan per intercettare e addirittura anticipare tutte le esigenze i cittadini consumatori vanno analizzati e categorizzati quindi punto lancio solo questo spunto per ricordare anche quanto oggi è un po' in linea con quello che si diceva sulla digitalizzazione l'accentramento anche non solo in termini materiali ma anche in termini di informazioni di quello che rappresenta appunto l'agroindustria oggi e di quanto la GDO ne sia una componente importante il consumo arriviamo però alla prossima domanda che riguarda invece come c'è il discorso dei prezzi e quindi come da un lato nella nella GDO nell'agroindustria abbiamo dei prezzi che sappiamo bene sono basati su economia di scala ma anche punto sfruttamento lavoro non remunerato estrazioni di valore lungo tutta la filiera e quindi che di fatto sono prezzi che ci sembrano che sono diciamo falsi perché non rispecchiano il valore della produzione dall'altro nelle esperienze come dire alternative oppure che si muovono nel sistema cercando di costruire altri modelli si pone anche lì la questione del prezzo la questione del prezzo sia in termini di accesso e accessibilità di determinati prodotti quindi come rendere questi prodotti accessibili a tutta la popolazione ma anche prezzi in termini di prezzi di produzione quindi abbiamo visto negli ultimi anni tutta la questione delle mobilitazioni di agricoltori che non reggevano più con i prezzi del latte mi viene in mente la Sardegna ma anche l'autunno scorso il prezzo dell'olio d'oliva in Sicilia quindi tutte le mobilitazioni di agricoltori che hanno deciso di non raccogliere perché non ricevevano informazioni rispetto al prezzo che gli sarebbe di vendita che gli sarebbe stato garantito che poi ovviamente non è il prezzo che si paga al supermercato che invece anche quello è aumentato quindi aumenta il prezzo per il consumatore aumenta il carovita ma viene garantito sempre un prezzo minore a chi produce quindi lancio così questa domanda questi spunti anche in termini secondo me di un tema del diritto al cibo che rimane quindi la soluzione diciamo come garantire diritto al cibo oggi e con quali strumenti rimane una questione aperta quindi da un lato la critica alla mercificazione dall'altro come ripensare o come definire un prezzo giusto oggi in questo contesto io non sono bravissimo sulla tematica mi ricollego intanto a una cosa che appunto che diceva Nico prima sulla questione della merce appunto mi piace ripercorre anche dei pezzi della nostra storia delle nostre lotte appunto quando si diceva appunto vent'anni fa il cibo non è una merce ve lo ricordate Bovet la confederazione paesienne che portò questi temi tra l'altro anche in sede di Parlamento europeo come sindacato loro sono dei più grossi sindacati d'Europa e riescono a mobilitare i contadini in Francia sono una potenza economica a portare dei temi anche diciamo innovativi nelle sedi dove poi si discute e si danno le linee della politica comunitaria perché lì si gestiscono i fondi della PAC la politica agricola comunitaria che sono una buona fetta del bilancio dell'Unione Europea e vengono nonostante siano tasse che paghiamo tutti noi vengono spesi completamente in direzione contraria a quello che vent'anni fa qualcuno poteva avere ancora dei dubbi ma oggi oramai è sotto gli occhi di tutti e quello che sarebbe la necessità appunto di transizione ecologica delle nostre campagne del modo di produrre quindi questo era uno slogan che però come facciamo a fare in modo che non sia uno slogan quando voi dovete comunque andare a fare la spesa e vi confrontate con quello che avete in tasca noi dobbiamo comunque pagare il benzinaio per portare la verdura in città le bollette il gasolio per il trattore piuttosto che comprare sementi piantine l'energia elettrica che fa girare le pompe tutto questo è una questione abbastanza delicata perché è vero che la grande distribuzione dà l'illusione di offrire i presti migliori di cibo che possiamo trovare questo insomma è vero fino a un certo punto nel senso che i presti lì non stanno mai fermi si muovono continuamente e quindi se qualche volta trovate dei presti veramente stracciati in offerta la maggior parte degli altri prodotti lo stesso giorno invece sono abbastanza elevati voi non ve ne accorgete pensate di fare la spesa furba io stesso quando mi tocca di andarci e però in realtà il prezzo che vai a pagare è molto molto più alto rispetto ai costi ambientali e sociali che poi ripagate sempre voi in termini di inquinamento ambientale malattie della popolazione per un cibo poco sano smaltimento dei rifiuti e tutta un'altra serie di costi che assorbiamo noi come società diciamo però comunque quei prezzi non sono poi così bassi come sembra soprattutto rispetto a quanto vengono pagati cioè il gap fra i costi alla produzione e i costi al consumatore finale è sempre sempre aumentato nonostante la presunta efficientizzazione dei sistemi logistici una volta a Bologna c'era uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Italia arrivavano merci un po' da tutta Italia ma gli stessi contadini dell'internet bolognese delle colline del moderese portavano col proprio furgone lì i propri prodotti c'era anche un bancale di mele potevi andare che andava anche con una macchina di insalate contrattavi con un grossista se il prodotto era buono se eri bravo o tu se avevi un canale di chi forniva i ristoranti prendevi due lire in più di chi forniva però comunque quella era la distribuzione cittadina adesso quel mercato non c'è più il mercato ortofruttico di Bologna che era quasi in centro alla città è chiuso noi adesso vabbè c'è stato l'abbiamo occupato una parte come centrosali XM24 ci abbiamo rifatto un mercato dentro per vent'anni poi ci hanno sgomberato qualche anno fa adesso siamo riusciti a ritornare su una parte che il comune ha ristrutturato una tettoia che era proprio quella dedicata ai produttori di una volta ma il mercato non funziona più non serve più perché la distribuzione di cibo adesso passa attraverso le centrali d'acquisto dei gruppi che gestiscono i supermercati Cop c'ha la sua Cono c'ha la sua Lidl c'ha la sua e lì il piccolo produttore non può andare a vendere non può più andare a vendere per forza stare dentro un consorzio grosso che fa i contratti che fa gli appalti di fornitura che fa la logistica e loro trattano le merci in Italia quindi a quel punto già molta gente che già non ci stava dentro prima a proposito di costi ha smesso di fare agricoltura chi c'è rimasto sta dentro le cooperative e ha veramente dei margini ridicoli però vede le sue pere perché la mia vicina che fa biologico la compagna di Campi Aperti c'era Satrettari di Peretto in affitto che era di famiglia e quest'anno ho detto basta butto giù le pere perché quest'anno la cooperativa che me le ritira che poi le distribuisce biologiche con il tasso di pesticidi più basso perché comunque anche nel biologico c'è un residuo per i trattamenti ammessi che dai un po' di rame dai trattamenti per il verme della pere tutto comunque deve essere basso e il suo era così basso che l'hanno messo per il baby food per il cibo per i bambini gli omogenizzati che deve essere ancora più sostenibile più senza risidio dell'altro però le pere gli hanno pagate 15 centesimi 20 centesimi quando voi andate a comprare una batte biologica al supermercato la pagate 3 euro e mezzo allora quando parliamo di prezzi dobbiamo tenere conto che i prezzi per voi sono sempre alti per chi vende la roba sono sempre bassi se costruiamo una filiera alternativa comunque noi scendiamo siamo delle piccole aziende scendiamo in città facciamo i mercati autogestito abbiamo dei costi effettivamente perché non siamo specializzati non siamo l'agricoltura che io faccio solo quello ho la macchina che mi pianta le piantine ho la macchina che me le raccoglie faccio ammortizzo non ho quasi dipendenti oppure ne ho pochissimi oppure li ho sottopagati perché li prendo fra i disperati che arrivano in Italia no se costruisci un sistema diverso i tuoi costi li evitano i tuoi costi li evitano dopo ci troviamo o in una situazione di lotta fra poveri cioè io cerco di vendere il più alto possibile tu cerchi di oppure costruiamo un sistema alternativo e cooperativo cioè di incontro di bisogni come diceva io a quel punto la mia non è più una merce però io ho un bisogno di sopravvivenza come ce l'avete voi e dall'incontro di questi bisogni in città noi adesso da quattro aziende che eravamo abbiamo messo su una rete di sette mercati siamo circa 100 150 piccolissime aziende di produzione da molte anche genuina candestina nel senso di realtà giovanili che si sono insediate adesso in agricoltura negli ultimi anni che magari non hanno o la partita IVA o il laboratorio a normo fanno il pane fanno il vino eccetera però in un circuito di comunità diciamo sono sostenuti a una comunità diciamo che cerca un cibo di un certo tipo a loro volta cercano di impegnarsi per fornire il cibo a dei costi più accessibili ai prezzi più accessibili che si può non è una partita facile diceva prima Maria quali sono i limiti i limiti sono che questa roba non è ancora così sostenibile si parla tanto di sovranità alimentare dei territori quella della grata distribuzione non è sovranità alimentare è sovvenzionata a denaro pubblico e non starebbe in piedi senza quello quindi scordiamoci che gli imprenditori ci sfamano rischiando loro loro non rischiano niente quelli stanno in piedi quello che gli avanza sono i soldi che gli abbiamo dato noi perché per il resto spesso vanno in perdita sulle culture industriali hanno depauperato terreni e biodiversità per decenni tant'è che adesso anche loro non riescono più a fare le rese che facevano vent'anni fa nelle terre più fertile d'Italia che sono la pianura padana il tavoliere delle Puglie eccetera e hanno iniziato a usare con cimi organici biologici perché con quelli chimici non producono più un cazzo quindi diciamo che quel sistema lì come dicevamo prima è fallito la Green Economy le sue promesse degli anni 70-80 non hanno dato i risultati sperati ci troviamo appunto dei territori diciamo semi desertificati però del resto l'alternativa contadina stenta a decollare perché anche e vi dico un dato così poi la chiudo qua a proposito di tradizione orale una testimonianza di questi mesi che dopo anni di giovane che ho visto avvicinarsi all'agricoltura quindi con grande speranza e come Nico nelle colline perché poi ecco un'altra cosa che ci accomuna ai contadini del resto del mondo che l'agricoltura contadina non le fai nelle terre fertile di pianura ti arrampichi su per le terre marginali di collina perché sono le uniche che puoi trovare in affitto puoi addirittura comprare perché costano poco perché le altre sono oggetto di speculazione bancaria e finanziaria quelle non ci puoi arrivare a meno che ci sei nato di famiglia tu sarai sempre arrampicato sui terreni sfigati della nostra penisola in quelle situazioni lì molti giovani ci provano ci credono ci sfidano la sorte con il sostegno di una comunità allargata e solidale però devo dire che per la prima volta in questi anni ho visto dei giovani un pochino a rendersi a dire io però guadagnavo di più quando consegnavo le pizze da studente universitario facevo lavoretti precari mi spacco la schiena 10-12 ore al giorno e faccio fatica a portare in vacanza mio figlio e pagargli il corso di musica c'è qualcosa che appunto rispetto ai prezzi rispetto alla sospettabilità delle nostre vite dobbiamo ancora trovare delle risposte efficaci scusate ho parlato troppo no no anzi io sono totalmente d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto provo ad aggiungere tre livelli differenti uno finanziario l'altro invece proprio sulla filiera e l'ultimo invece più più dal basso allora il primo quello più in alto finanziario come si diceva prima l'esempio concreto è quello che succede che è successo all'inizio della guerra tra Ucraina e Russia sul prezzo del grano chiaramente quel grano lì era già stoccato ed era già disponibile o perlomeno era già apprezzato ma per una serie di questioni economiche politiche sociali eccetera eccetera il prezzo di quel grano a un certo punto aumenta aumenta in maniera spaventosa e il meccanismo su una dimensione finanziaria è lo stesso della grande distribuzione cioè che sono loro a definire qual è il prezzo a definire qual è il prezzo su un piano però finanziario stessa identica cosa e poi ovviamente solitamente quando aumenta così il prezzo a livello economico subentra quello che è il bene succedale ok non posso comprare grano cosa prenderò prenderò sorgo prenderò altri 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 tipi di cereali e invece no tutto il discorso se centrato sul grano e su le navi che non partivano perché il diciamo il passaggio per la distribuzione non era non era disponibile chiaramente proprio come era successo nel 2007 e 2008 c'è una speculazione a livello finanziario su questo tipo di bene che non è solamente tra domanda e offerta meglio solitamente su quella che l'offerta è poco domanda ma è su un altro piano che è quello più invece di giochi di creare plus valore su questo tipo di bene l'altro invece è sulla filiera cioè solitamente quando si ragiona a livello storico su sapete questo termine food riots su le rivolte per il cibo a immaginario viene fuori ok c'è la rivolta del cibo perché non c'è cibo no in quel caso lì è una carestia o in quel caso lì non ci sono disponibili solitamente a livello storico quando ci sono rivolte del cibo o meno periodi in cui sono state rivolte del cibo è perché c'era cibo ma il cibo non era per tutti il prezzo del cibo era alto il che vuol dire riporta a quello che dicevamo prima che la filiera lunga soprattutto quella lunga quando funziona funziona nel determinare in maniera quasi monopolistica o oligopolistica o comunque di pochi soggetti quello che è il prezzo poi se ci sono persone che non possono permettersi sono fatti loro e il prezzo è determinato in quella maniera le rivolte del cibo seguono questa dinamica perché ci sono i supermercati pieni e noi non possiamo non possiamo accedere al cibo perché il cibo viene coltivato nel campo vicino a casa mia e io non posso andarlo a comprare o non ho i soldi per poterlo comprare a un prezzo troppo alto questo è un altro un altro esempio l'ultimo esempio invece è più strutturale cioè di come il prezzo viene definito cioè il prezzo oggi è definito se non ci sono delle persone che lavorano la terra che hanno la capacità anche di intendere il cibo non solo non come una cosa ma invece come è stato detto prima è una prospettiva differente chiaramente il prezzo del cibo è determinato da dei fattori che sono abbastanza fissi cioè il prezzo dei semi non è che o vai a isolare a costruirti tu delle sementi e fai un ragionamento di questo tipo oppure hai tutta una serie di parametri fissi di costi fissi per cui il prezzo sarà quasi definito non ultimo per esempio l'irrigazione non ultimo l'utilizzo di fertilizzanti o meno ecco tutto questo ragionamento è qualcosa che va messo in conto sulla definizione sulla definizione del prezzo dico solo chiudo solamente più con questa cosa a livello finanziario a livello di catena e a livello proprio più basso quello che succede e solitamente Marx ne parlava proprio nel capitale quando diceva l'accumulazione originaria cioè il spossessare chi produce dalla terra continua non è originaria continua in maniera costante continua a livello finanziario continua a livello di costruzione di sfruttamento di soggetti che vengono messi in agricoltura perché il genere razza eccetera a livello intersezionale li definisce come soggetti che lavorano dovranno lavorare se vogliono lavorare a un prezzo del lavoro molto basso e funziona anche a livello proprio di perimetrare quelli che sono i costi per produrre la tua mela la tua uva eccetera eccetera quindi è un circuito che solamente in queste prospettive nelle prospettive delle filiere corte quelle che vengono definite filiere corte si riesce a spezzare e sono super contento che ci siano loro perché è una testimonianza diretta di anche una resistenza pratica a questo sistema gigantesco dove poi però ci sono delle iniziative piccole collettive con idee specifiche che restituiscono qualcosa realmente importante di base se uno dovesse costituire un prezzo Michele parlava di tutte quelle cose che non rientrano dentro un prezzo di un prodotto dentro della grande distribuzione perché tecnicamente vengono dette esternalità cioè tutto quello che crei a livello di danno e dovresti rendere economicamente ricoscutto da aggiungere poi al prezzo del prodotto che stai vendendo dall'altro lato in tanti casi in quelle aree marginali che citava Michele dove i giovani stanno cercando di andare o comunque il contadino è andato a parare tutte le volte perché effettivamente erano meno succulenti dal punto di vista produttivo in tanti casi sono anche zone a dissesto idrogeologico sono zone che comunque devi fare del lavoro di sistemazione del posto la grande distribuzione di solito si basa su dei produttori che modificano modellano il paesaggio in maniera spesso e volentieri pesante perché poi corrisponde alle caratteristiche tecniche migliori per produrre grazie agli input che fornisci in più il ragionamento di una produzione un po' più ecologista e su piccola scala è in tanti casi di adattamento al paesaggio e di inserimento dentro il paesaggio in una maniera meno aggressiva per fare questo ci sono tantissimi lavori che uno dice io per fare un'insalata semino metto giù la pianta la bagno la raccolgo quando è cresciuta e via se uno vuole approfondire un po' all'interno del lavoro di campagna ci sono tantissimi lavori collaterali sono tantissime cose che uno deve fare per curare il territorio per stare dietro arrivare a descrivere dentro il prezzo di un prodotto queste cose a me mette in difficoltà perché quando ti vivi un territorio lo fai per il territorio lo fai per te lo fai per fare delle produzioni lo fai un po' per tutti non lo so non è è lavoro sì è lavoro quanto può essere paragonato al lavoro salariato pochissimo cioè non lo so è un lavoro autonomo boh sì però è un lavoro di cura che uno fa a prescindere perché è necessario ma non può essere monetizzato facilmente quindi la cosa più importante secondo me a cui si arriva tramite i mercati che ci troviamo a fare in città ad esempio a Bologna siete esagerati ogni giorno della settimana noi a Firenze siamo arrivati a farne uno più grande il venerdì da 4-5 anni un altro era prima in un giardino di una biblioteca ora si è spostato in una piazza di un quartiere diciamo arriviamo a tre mercati attualmente in tre giorni diversi quello che che fai di base ed è un meccanismo che generalmente è ostacolato dentro la grande distribuzione se non fosse per degli obblighi statali di numerazione che poi ti possa far arrivare alla fonte tramite una ricerca informatica dell'azienda che ha fatto quello generalmente il parlare al banco e poi vieni al podere ti faccio vedere come funziona si fa delle giornate aperte siamo lì tra chi si prende questi prodotti normalmente al mercato chi le sta facendo chi fa le cose simili e quindi può dare una descrizione e può creare dibattito su come le sta facendo una persona ti conosci così si aggiungono sul piano cooperativo delle cose che puoi fare insieme e sotto certi aspetti in certi casi metti da parte quello che è anche il dare un prezzo cioè o quantomeno gli dai più importanza al prezzo che fai poi in generale se noi dovessimo stare a vedere di farci pagare 10 euro l'ora per tutto quello che facciamo scusate il gesto ma proprio cioè è impossibile se uno se mi volessi fare le pulci non so se arrivo a due o tre ecco non so è così ma rientra anche in parte in quel cambio di stile di vita io nel frattempo sto in un ora ancora in un posto da paura bello mi vivo gli uccellini come mi vivo tantissime forme di vita mi appaga quindi sotto certi aspetti mi van bene due o tre euro l'ora ma c'ho questo poi da valutare sono state dette tantissime cose in realtà io provo ad aggiungere dei commenti un po' partendo dalla mia esperienza un po' dalle riflessioni che mi sono venute ascoltando intanto volevo fare una battuta anche se poi avrà un senso con quello che cercherò di dire ma la faccio così diretta perché appunto non mi ricordo scusa il nome perché io sono Nicolò io sono negata coi nomi e tu dicevi appunto no il c'è anche la cura del paesaggio ci sono tutta una serie di cose l'altro giorno ero a un convegno appunto di agronomi e uno diceva me lo sono annotata diceva appunto è perché noi agricoltori facciamo tutta una serie di servizi invisibili che non hanno mercato e io ero con un collega marxista e ridendo abbiamo detto beh è un'ottima definizione della riproduzione e effettivamente è quello e parentesi dentro quel convegno si chiedeva che quei servizi avessero un mercato prima ho citato i servizi ecosistemici e ci torno subito perché questa questione del lavoro per me è una questione come dire che dovrebbe cioè che avete messo a tema e che è centrale però appunto il mio ragionamento al di là di questa battuta che adesso provo a recuperare aveva fatto su prima giustamente anche tu riconfermavi dicevi ok quel modello è fallito è fallimentare è fallimentare però occupa uno spazio politico ed economico centrale occupa uno spazio politico perché appunto è stato detto io guardavo i dati di un rapporto del CREA del 2021 che dice che l'1% dei soggetti agricoli in Europa prende la maggior parte dei finanziamenti della PAC prima giustamente veniva detto a livello globale l'80% di chi sfama la merce che arriva sui mercati locali nella maggior parte del mondo è prodotta da piccoli agricoltori che però nel loro insieme detengono questi sono dei dati di Grain un'associazione che ha lavorato molto su questa questione che insieme l'80% di questi contadini che tu nominavi detiene meno del 17% della terra agricola e quindi diciamo c'è un problema centrale e perché mi venivano in mente questi dati scusate perché in qualche modo quindi questa sorta di nuova scommessa che annunciavo anche prima che è probabilmente un'altra sconfitta sarà un altro fallimento dal punto di vista della capacità di nutrire in maniera sana e ugualitaria le persone però ha un impatto ed ha un impatto innanzitutto su appunto sul lavoro e sui lavori che lascia fuori quando studiavo la questione dell'hand grabbing appunto in Africa in Senegal una cosa che mi saltava proprio agli occhi era che rispeppe i piani di sviluppo precedenti cioè prima perché l'hand grabbing in quel contesto si inserisce dentro le politiche di sviluppo di sviluppo agricolo e di sviluppo economico ecco fino a quel momento fino al 2008 quando si parlava di sviluppo agricolo si intendeva nel bene e nel male spesso nel male che chi si dovesse sviluppare fossero i piccoli agricoltori cioè in qualche modo erano i piccoli agricoltori che dovevano entrare dentro le grandi catene della distribuzione globale c'era una centralità del lavoro perché c'era una centralità dello sfruttamento di questo lavoro ma c'era improvvisamente l'hai detto anche tu nei processi di espulsione quel lavoro viene meno e infatti questo è importante perché chi lotta per l'accesso alla terra lotta anche per l'accesso al lavoro e lotta anche per un'autonomia nelle forme del lavoro dentro quelle lotte lì sono lotte che possono sembrarci molto distante ma qui il tema centrale ha a che fare con l'autonomia della riproduzione e non solo e della produzione ma tornando qua in Europa scusate se provo a fare dei collegamenti poi magari insomma se non è chiaro mi farete domande tornando qua in Europa quando appunto in quel convegno si parlava di dare un mercato alla riproduzione è perché se noi andiamo a vedere qual è il futuro che è realmente concretamente immaginato per le poche aziende cioè siamo in un processo in Europa in cui le aziende agricole stanno sparendo anche in Italia ormai chi possiede la terra la dà i contrattisti ci sono ci sono delle forme di grande accorporamento della terra le piccole e medie imprese stanno sparendo parliamo al di là di chi addirittura fa una proposta alternativa e cosa viene proposto alla piccola e medie imprese beh di diventare un'agricoltura multifunzionale di diventare un agriasilo cioè di fare di fare agriturismo di fare altro di fare mille altre cose ma perché perché tu devi fare quattro lavori quando prima ne facevi uno beh perché quel lavoro lì non ti dà più da vivere cioè siamo dentro una crisi del lavoro e allora la domanda che voglio che pongo e che mi pongo è ma che paradigma è che piano è un piano che non ha nemmeno più al centro lo sfruttamento del lavoro detto così è una provocazione ovviamente perché tu l'hai ben dimostrato che lo sfruttamento c'è però diciamo quando prima dicevo quel modello è fallito adesso siamo in qualcosa di un po' diverso mi sembra che non siamo nemmeno più nell'ambito della promessa siamo nell'ambito di un sistema che lavora sul debito che chiede credito alla nostra salute alle nostre vite alla nostra riproduzione e che in qualche modo in questo essere a debito essere a credito come dire da un lato non c'è più una promessa inclusiva e dall'altro toglie e voi l'avete detto molto meglio di me ogni spazio per l'alternativa quindi sto dicendo delle cose molto banali però diciamo che mi viene da dire una cosa ancora più banale che è che probabilmente al di là delle lotte settoriali che uno può fare siamo dentro una dinamica che può essere risolta solo dentro un processo di convergenza in senso lato perché le forme di indebitamento di credito che stiamo prestando sono trasversali e chiudo dicendo che appunto adesso ovviamente perché sono le cose che interessano a me quindi forse sono di parte però diciamo io vedo per esempio nella questione della giustizia climatica un elemento in cui queste dinamiche stanno convergendo in cui forse chi lavora nella logistica può trovare uno spazio di confronto e di lotta anche con chi propone non è nella GDO anzi nella GDO vede un nemico però allo stesso tempo è dentro questa distruzione del lavoro ecco chiudo dicendo questo era una riflessione magari più più lata ma avete detto tantissime cose quindi grazie grazie mille io andrò un po' fuori tema adesso ne tocco un altro anche se penso che quest'ultimo sia stato fondamentale molto interessante quindi magari anche con le domande dopo ci ritorniamo un attimo ma riprendo poi anche il concetto di giustizia climatica e dei movimenti inizio a trattare di una problematica che è sempre più al centro del dibattito pubblico che è quello della siccità quindi il problema appunto dell'acqua della scarsità d'acqua della scarsità delle piogge che ha già interessato negli anni passati il clima mediterraneo ma non solo insomma che è andata a interferire con tutti quelli che sono i cicli ecologici idrogeologici appunto nostri del territorio questa è appunto una problematica che si sente in città come in campagna ma in realtà appunto si tratta di un sintomo che va a colpire in primis appunto quei territori che hanno a che fare con la terra e che questi cambiamenti poi li percepiscono effettivamente anche questo sarà poi un fattore che andrà ad impattare sul costo sui prezzi in maniera negativa ma le conseguenze le vedremo sicuramente più avanti la risposta del capitale in questi casi quindi a questa problematicità della siccità è ovviamente di tipo tecnico e quindi si sviluppano le migliori innovazioni tecnologiche digitali per far fronte alla scarsità d'acqua mi viene in mente il tema dei bacini idrici quindi la battaglia che il movimento francese di sulle Vomont della Terra che è nato più o meno due o tre anni fa in Francia ha proprio insomma selezionato come campo di battaglia questi mega bacini idrici che vengono che vengono costituiti per raccogliere l'acqua piovana e quindi andando a interrompere tutto quello che è il ciclo delle falde acquifere che servono però ai piccoli agricoltori locali infatti poi quell'acqua servirà a chi all'agroindustria e quindi alle monoculture che si sviluppano intorno e non di certo ai piccoli agricoltori che comunque in alcuni casi resistono e continuano a coltivare in quei territori limitrofi anche qui io penso che il movimento sulle mondi della terra si ponga appunto come problematica cioè come comune determinatore quello della giustizia climatica quindi anche a livello di movimento vedo che penso che si stiano muovendo delle convergenze di cui parlava Maura non ancora in territorio italiano però mi sembra che appunto in Francia qualche cosa si stia dando qualcosa di interessante che proprio va ad abbattere quelli che sono questi sistemi che cercano di dare delle risposte sempre dello stesso tipo che causano sempre gli stessi intoppi a chi cerca di invece proporre dei modelli alternativi a quelli dell'agroindustria quindi lancio un po' questa domanda questo dubbio che a fronte di questa nuvola oscura diciamo che ormai è un po' imperante dappertutto della siccità della scarsità d'acqua come come si fa a proporre dei modelli alternativi resistenti in tutti i sensi resistenti sia proprio per contrastare questo sistema agroindustriale poi anche per contrastare quella che è una calamità che non è una calamità però se vogliamo più climatica naturale allora questa questione del cambiamento climatico della piovosità è una sfida grossa io faccio ortaggi quindi potete immaginare come vedo cupo il mio futuro in una zona di collina dove l'acqua è sempre relativamente scarsa non abbiamo falde di profondità nei grossi invasi abbiamo delle piccole falde superficiali quello che comunque l'umanità e l'agricoltura contadina di cui noi ci facciamo diciamo eredi diciamo e cerchiamo di portare avanti ha sempre fatto l'agricoltura contadina si adatta si è sempre adattata ai cambiamenti climatici anche culturali anche alla tecnologia che l'uomo ha messo quello che l'agricoltura industriale non vuole fare e non vuole tenere conto che non può più fare quello che faceva prima e il discorso della piovosità che cala potrebbe dire ok questo modello era già insostenibile prima a maggior ragione lo sarà con questo tipo di piovosità dobbiamo ancora produrre mais per alimentare maiali per mangiare la cara di maiale quattro volte a settimana a questi costi oppure possiamo immaginarci di produrre cibo per gli umani ridurre l'alimentazione del bestiame ridurre ecco questo no tutto deve essere come prima come quando pioveva così come succede che bisogna andare a lasciare come quando nevicava così bisogna produrre culture rigue barbabietole mais e patate bagnando 80 mm al mese come quando c'era l'acqua nelle falde la falda di pianura di Bologna quest'anno nonostante la posibilità discreta degli ultimi mesi non ha raggiunto quello che aveva l'inverno scorso prima le falde di profondità non si sono alimentate qua in montagna vedo anche peggio quindi noi dobbiamo ripensare la nostra agricoltura ripensare vuol dire utilizzare delle piante che si adattano che sono più resistenti che hanno bisogno di maggiori input che hanno pensate che l'irrigazione è strettamente legata alla concimazione cioè tu più dai azoto a una pianta più dopo li devi dare da bere devi fare dei frutti grossi così delle mele grosse così dei pomodori grossi così una pianta meno stressata che può produrre un pochino meno può anche avere un pochino meno acqua può avere una concimazione meno spinta può avere una concimazione più organica e la pianta stare in salute nonostante poi tutti parlo dell'emergenza dell'acqua ma l'anno scorso anche nelle zone dove c'era l'acqua il problema non era l'irrigazione erano delle alte temperature moltissime culture sono collassate per la temperatura alta lì puoi avere l'acqua che vuoi la frutta si è seccata sugli alberi le piante sono morte i pomodori sono marciti i meloni sono scottati nei campi le zucche sono scottate nei campi delle cose che non si vedevano cioè si vedono come eventi straordinarie è stata una cosa diffusa in buona parte della penisola quindi ci fanno credere che con l'acqua e con i soldi del PNR faremo mega invasi e daremo l'acqua a tutti ma non è così non è sufficiente sono comunque investimenti sempre di soldi pubblici per sostenere il guadagno di pochi facendoci pensare che in realtà servono queste cose per nutrire noi ma non è così non è così è sempre un meccanismo di diciamo sostenere un sistema che non sta più in piedi iniettando le risorse facendoci credere che questo è il futuro come tra l'altro è la questione un pochino degli OGM adesso non li chiamano più OGM perché erano diciamo c'è una forte contrarietà a livello europeo soprattutto queste cose li stanno chiamando li chiamano NBT questa cosa sta passando una nuova NBT sta a New Breeding Technology comunque una nuova tecnologia di costituzioni di sementi modificate geneticamente che la maggior parte del mondo scientifico dicono sono comunque OGM e stanno spingendo in questa direzione proprio per dire c'è il cambiamento climatico dobbiamo creare delle piante che resistano che abbiano bisogno di minori input idrici eccetera quindi l'agricoltura industriale si attacca a tutto si attacca a qualunque pretesto per sopravvivere drenando risorse pubbliche e facendoci credere che è l'unica agricoltura che può sfavare il mondo io sono più preoccupato appunto di questo che della piovosità che sicuramente c'è però so che i contadini in tutto il mondo trovano le risorse per adattarsi ai cambiamenti climatici alle mille sfighi già la stessa biodiversità di una piccola azienda è la migliore assicurazione contro questo io faccio 30-40 ortaggi in pochi ettari cosa che un'azienda specializzata ne farebbe due e quindi se ho delle sfighi in un particolare momento dell'anno pazienza avrò un po' meno produzione ma riesco a compensare facendo tante cose e non tutte hanno le stesse esigenze già questo è un tipo di agricoltura anti-economica poco specializzata che però ti imparti tutela altra cosa io per fare un piccolo aghetto posto che la storia di accumulare acqua piovana lo facciamo da migliaia di anni ed è sensata per fare un piccolo laghetto di qualche decina o centinaia di metri cubi devo sobbarcarmi una quantità di carte e di costi come se facessi la nuova diga di Ridracoli cosa che non è accessibile e fare un laghetto abusivo adesso c'hai il penale perché c'hai dissesto idrogeologico in collina che è effettivamente un problema quindi se ti fanno una foto aerea che hai fatto un laghetto abusivo vai in galera quindi i soldi andranno per i grandi bacini per i consorsi di irrigazione però se il contadino vuole farsi un laghetto per accumulare l'acqua dalle grondai o dal fosso che viene su dalla collina è nei guai perché i fondi non li prende comunque sono più le carte che deve pagare i geometri e gli ingegneri che gli fanno il progetto che il ruspista che gli fa il buco e quindi l'agricoltura di piccola scala si scontra sempre con un modello che è pensato per altri e non per noi sì allora la domanda era vasta e cerco di prenderla da dove riesco perché in realtà sul tema siccità io ho come dire delle informazioni lo dicevamo prima che commentavamo fuori sintetiche nel senso che sto collaborando a un progetto di ricerca di cui non abbiamo ancora i risultati che interroga insieme ad altre colleghe e colleghi che interroga la questione della preparazione al rischio climatico la preparazione è un nuovo paradigma criticabile dal punto di vista nel senso che è creato dentro come dire negli spazi in cui si sono creati tutti gli altri paradigmi quindi non ha un'intenzione ad essere innovativo però comunque è l'idea che in qualche modo oramai non sia più non so se vi ricordate prima si parlava tanto di resilienza poi insomma ci erano vari e adesso c'è questa idea c'è anche un dispositivo europeo su questo che bisogna essere preparati a crisi che arrivano in modalità impreviste repentine e con dinamiche poco prevedibili il covid è stato uno degli elementi di accelerazione e non importa se ci crediamo o meno a questo paradigma però il dato interessante è che nel fare ricerca su questo quello che è venuto fuori e che sostanzialmente per lo meno nel contesto italiano questo paradigma non è nemmeno menzionato nemmeno conosciuto se non pochissime nicchie ma ecco lavorando proprio sulla questione della siccità non c'è un piano cioè non c'è un come dire una modalità di pensare in maniera coordinata la questione adesso mi viene da pensare alla frase che disse Greta Thunberg non mi ricordo dove che disse the leaders are not leading chi governa non sta nemmeno più governando non so se siamo dentro quella questione lì quello che sicuramente siamo mi sembra che ci siamo dentro un processo di totale normalizzazione del rischio c'è una modalità in cui i rischi che sono socialmente tecnologicamente ma nel senso i rischi che sono socialmente costruiti vengono fatti passare come calamità come cose normali e in qualche modo adesso che siamo dentro questa nuova strategia dell'adattamento quello che citavi tu la questione adesso di creare delle culture che siano adattate in modo da resistere a situazioni climatiche estreme oppure in minor parte la digitalizzazione come un processo che ottimizzerebbe l'utilizzazione delle risorse però le domande che non si sentono mai fare è sì ma quando quando arriverà cioè quando uno qual è la scala temporale di questa visione e due politicamente cosa significa essere dentro una dinamica in cui ci si deve adattare ad una vita cioè a vivere in condizioni sostanzialmente nefaste e quindi ecco io vedo che la la situazione è a mio parere insomma abbastanza tragica perché in qualche modo non esiste non c'è una una volontà reale di di prendere sul serio la questione e chiudo dicendo che non c'è perché l'unico modo per farla sarebbe dare uno spazio ad alternative che soluzioni le stanno praticando che hanno problemi probabilmente di scalarità che hanno problemi di spazio che si trovano a praticarle in un sistema che le rende impossibili perché è organizzato su una divisione del lavoro di un certo tipo su appunto anche una riduzione del potere d'acquisto sistematica e via dicendo però ecco sicuramente come dire la mia lettura sulla questione della città e l'esempio che tu portavi di Soulevement della Terre che poi non so se forse lo vuoi spiegare un po' meglio magari raccontare non so se può essere interessante ecco loro hanno portato quel tema dentro il dibattito francese in una maniera che secondo me è stata super forte penso che lo conosci meglio tu per come ci stai lavorando no io niente solamente una battuta molto veloce manca l'acqua però poi per fare la Tav per fare il Tav l'acqua c'è sempre quindi a me viene da dire delle cose che magari saranno criticabili però faccio questo esempio l'estate scorsa ci sono stati dei provvedimenti dalla provincia di Firenze di interrompere l'irrigazione degli orti dei giardini delle abitazioni così però nessuno ha parlato a interrompere un giorno a settimana di lavoro delle fabbriche più energivore e che utilizzano più acqua nessuno ha messo questo davanti e lì si ritorna a un conflitto che da una parte c'è una soddisfazione di bisogno ribadisco sempre lì che può essere un'autoproduzione e l'utilizzo dell'acqua da parte tua è utile a quello mentre vuoi la salvaguardia delle ore di lavoro e di una produzione sul piano industriale invece ha una precedenza non va interrotta perché porta da mangiare cioè porta dei soldi ai padroni della stessa fabbrica comunque si può analizzare sotto mille aspetti sono mondi che sono in contrasto fra di loro cioè io vi porto l'esempio di delle due valli toscana che sono la val d'arno che arriva fino a Pisa e la valle che sta tra Prato Pistoia e Lucca che è la val di Nievole in queste due zone ci sono due grandi poli industriali che sono le cartiere e che sono le concerie ci sono tra queste due valli due paludi dove convoglia l'acqua dai rilievi e arriva lì poi rifornisce le falde sotterranee storicamente a livello agricolo nella piana anche l'agricoltura industriale non ha una quantità di irrigazione così rilevante cioè sul numero di superficie coltivata mentre l'utilizzo dell'acqua dalle falde per uso industriale è fortissimo io non voglio mettere in contrasto dei mondi però la risorsa è quella quindi in qualche maniera uno la deve pure orientare poi io sono d'accordo su quello che diceva Michele dell'adattamento e del far siccome te hai tanti bisogni fai tante colture per avere una variabilità e se te ne va male tot magari ti può andare meglio qualcos'altro quella è una dinamica la monocoltura sto ragionamento non lo fa fai 150 ettari di grano ti va male perché ti arriva una seccata in fioritura a fine aprile inizio maggio una gelata te ti basi su i sussidi per calamità che ti dà lo Stato no cioè te hai perso il prodotto punto quindi da una parte rientra anche quell'aspetto di monocoltura rispetto a una policoltura che si integrano varie cose fra di loro che è più complessa e nella sistematizzazione di pensiero dell'agroindustria non riescono a rientrare cioè quello che magari un contadino riesce a mettere insieme tra piante animali esseri viventi diversi che si combinano dandosi una mano l'agroindustria non riesce a farlo questo è un aspetto di adattamento che gli manca sicura molto in maniera molto forte dico solo per precisare il discorso che facevo prima sullevamonde la terra è un movimento che è nato appunto più o meno due anni e mezzo fa in Francia è nato un po' sulla scia di quello che rimaneva del movimento contro l'aeroporto di Notre Dame de Land una volta chiusa quella battaglia lì il resto delle persone attive si è poi costituito in un movimento nuovo con questo nome appunto e interessante perché raccoglie un po' tutto quello che era nato nel 2019 quindi parte dei movimenti attivi durante il periodo Gilles Jaune piuttosto che tutte le mobilitazioni climatiche che dopo la pandemia da Covid comunque hanno visto un po' una discesa riesce a mettere insieme diverse entità quindi diverse aree del movimento e insieme anche alla Confederazione Paesana quindi c'è anche un'alleanza che va che si inserisce con chi poi i territori rivive veramente una delle principali tematiche e battaglie che loro portano avanti è quella contro l'agroindustria le prime mobilitazioni sono state fatte infatti contro Bayer e Monsanto un'altra tematica di cui adesso trattano è quella dell'acqua e appunto i sabotaggi che ripropongono loro le chiamano disarmament si sono rivolti appunto in questo periodo invece ai grandi bacini idrici appunto la peculiarità loro è stata quella un po' di stringere queste alleanze tra movimenti climatici movimenti sociali e poi anche appunto tutta quella quella lì che è ben radicata e che insomma comunque è una delle prime frange impattate da questo da questo sistema c'è un po' di tempo per delle domande se volete intervenire anche anche voi se non ci sono domande ci sono o se ci sono ultimi commenti anche da parte vostra domande elementi da aggiungere nel frattempo ricordo anche che di là è in vendita il libro di Maura che è intitolato la terra dentro il capitale quindi per chi volesse approfondire alcuni di questi temi lo trovate di là di là c'è una domanda sì è una domanda ma è stata terra a terra però c'è una prospettiva di poter dire rendere accessibili è una questione di scala e tutti da domani se stessero andate al mercato il vostro non sarebbe sostenibile per noi ma voglio molto male è una cosa che veramente sembra un po' e quindi il rischio di diventare una cosa lì è un po' di rimanere lì abbiamo una caratteristica non voglio dargli del difetto però mentre un capitalista in una qualche maniera ha dei fondi monetari dice mi serve quello quello e quell'altro poi avvia e magari in tempo in un tempo non troppo lungo riesce a ripagarsi gli investimenti noi abbiamo processi lenti cioè non ci ne vuole per costruire forse si viaggia di una timidezza maggiore anche nell'interfacciarsi a livello di marketing diciamo per cui no da un momento all'altro non si fa proprio nulla nel mondo invece mettiamo insieme percorso di cultura condivisa più persone si informano e hanno degli strumenti tra le mani sul come fare sul e poi voglio ricordare una cosa in Italia c'è il 4% delle persone se non ricordo male che sono in agricoltura nella somma di tutte le le forme di lavoro dentro l'agricoltura queste figure qui sono uno zero virgola un tot per cento di quel 4% quindi quello che è successo con l'abbattimento della cultura del saper fare dagli anni 50 in poi e che sono costruzioni di cultura di centinaia di anni non lo ricrei in due minuti e nemmeno se rimangono quel numero di persone che fanno queste cose se rischiamo di essere più mosche bianche che altro non è che la svoltiamo a nessuno se ci si organizza ci si si punta ad autogestirsi rispetto al sapere rispetto a darsi una mano rispetto alle risorse a fare lavori insieme in mutuo aiuto a trovare i posti per le persone perché creino situazioni nuove ci colleghiamo in un momento di socialità che è il mercato all'interno di una città per cui c'è un modo di dare sfogo a quello che diciamo a noi avanza e diventa disponibile però sono cose che vanno costruite sono cose che bisogna parlarne io sono felice che siamo qua a parlarne però non abbiamo la velocità di abbiamo tantissima fantasia tantissima creatività chiaramente abbiamo le braccia più che i portafogli pieni e quindi insomma me viene da risponderti così la domanda è valida è bella terra terra però come dice Nico appunto i processi di ritorno alla terra per produrre cibo in maniera diversa sono lunghi sono lunghi proprio uno perché è un problema di risorse e di capitale spesso tant'è che noi abbiamo tentato a Bologna sempre sull'esempio di compagni francesi che sono molto avanti su queste robe questa rete che noi abbiamo incontrato studiato sulle quali abbiamo cercato di copiare delle cose che si chiama Terre des Lien terra di legami che raccoglieva proprio per favorire l'insediamento di nuove realtà agricole rurali nei territori raccoglieva il risparmio dei cittadini creando una cassa di mutuo soccorso per acquistare terreni da affidare a giovani in realtà rurali cooperative anche aziende individuali finalizzate alla produzione biologica organica di cibo per le comunità nel momento in cui tu non lo vuoi più fare restituisci la terra all'associazione che la affiderà a qualcuno cioè la terra non più come bene privato di investimento tuo ma come un bene comune ecco questo è una possibile risposta perché poi la gente molti ragazzi dicono io voglio fare anch'io cercano terreni ma poi si scontrano con dei limiti e comunque questi due percorsi di diciamo di costruzione di comunità attorno al cibo attorno a uno scambio eco non sono così lineari cioè vent'anni fa c'è stato una grossa avanzamento diciamo delle società urbane i gruppi d'acquisto gli impori solidali popolari e il cibo non c'era cioè non c'erano abbastanza produttori per fornire questa rete qua e noi diciamo sempre bisogna produrre produttori cioè non è che possiamo fare tutto ci chiamavano tutti quanti eravamo dieci gatti e no con calma ci vuole tempo cioè non è che io voglio ingrandirmi voglio avere dei vicini un vecchio motto contadino meglio avere dei vicini contadini che degli ettari cioè non è che voglio impazzire lavorare però voglio un vicino con cui scambiare attrezzi sapere competenze aiuto nei momenti di emergenza e questi sono reti diciamo di solidarietà in campagna che pure bisogna ricostituire non sono spesso delle volte ancora ci sono sui territori delle volte si sono disperse sono state asfaltate anche dall'esudo delle campagne la gente se n'è andata pensate che quando io ho iniziato i miei vicini ma la Coldiretti la banca del paese dicono ma che state facendo negli anni 90 l'agricoltura è finita cioè nella mia valle l'agricoltura è finita voi che cacchio pensate di fare e poi in realtà gli stessi adesso dicono cazzo no avete fatto un sacco di robe questi vent'anni la Coldiretti che allora non ci credeva nelle piccole aziende contadine hanno aperto tutte le loro cazzate campagna amica e tutto questo marketing di finta agricoltura contadina però che gli fa gioco in questo momento qua no per dire che comunque si tratta di adesso per esempio noi a Bologna abbiamo 6-7 mercati ci sono due empori solidali e in questo momento di crisi post-covid inflazione eccetera dal lato del consumo siamo deboli cioè non c'è abbastanza richiesta per sostenere le aziende che hanno investito in questo i contadini anche i giorni quindi non corriamo sempre alla stessa velocità ecco c'è bisogno di lavorare un po' insieme in un'ottica proprio di cooperazione di mutuo aiuto però sono processi lunghi come diceva però il primo passo è quello che ho detto te io al supermercato non ci vado anche perché e questo è un dato che se ve l'ho andata a leggere nella tabella dei consumi a me fa sempre impressione cioè la spesa alimentare delle famiglie guardate un grafico dagli anni 70 ad oggi tracolla no? cioè è vero che l'operaio precario guadagna poco però quello che spende per mangiare è niente tutto il resto è altra roba che lo sapete anche voi dove si spende i soldi oltre le bollette l'affitto che sono che però è tanta altra roba cioè negli anni 60 una famiglia spendeva il 60% del bilancio familiare per dar da mangiare ai figli e tutti quanti adesso spende 10 il 15 e spesso di roba di bassa qualità quindi quando io non sono di quelli che dico cambio la spesa cambio il mondo però effettivamente qualche domanda anche noi su come orientiamo i nostri consumi e che tipo con quei pochi soldi che abbiamo che tipo di economia vogliamo sostene vogliamo costruire ce la dobbiamo fare insomma penso che questo passaggio all'interno del movimento sia in un'ottica di proprio autogestione della tradizione ecologica perché la tradizione ecologica che fanno i potenti sappiamo dove va a parare spesso sono chiacchiere spesso sono dei progetti insostenibili di riproposizione dell'esistente e basta di sostenere diciamo forzatamente un sistema alla deriva dal basso noi dobbiamo fare altro però dobbiamo farlo con le risorse che abbiamo che sono anche i nostri salari le nostre economie e le nostre relazioni insomma una battuta che effettivamente mi hai fatto pensare a no c'è Jason Moore che parla di cheap food di cibo a basso costo come strutturante la società capitalista salariale effettivamente l'idea che noi possiamo spendere tantissimo per tutta una serie di cose ma il cibo lo dobbiamo pagare poco è strutturante scusami mi è venuto in mente questo un'ultima cosa rispetto a questo perché proprio per questo motivo che il cibo deve costare poco l'industria l'agroindustria nel senso il sistema agroindustriale cioè chi produce pane pasta prodotti derivati dalle materie prime agricole ha sempre preteso che queste costassero poco di fatto i finanziamenti agroindustriali servono per tenere bassi i costi delle materie prime per chi le trasforma e lì c'è il margine c'è il margine io non guadagno producendo pomodoro ma producendo passati pomodoro il pomodoro non costa niente però la passata magicamente costa totta il grano duro non costa niente però la pasta costa totta e tornando al discorso diceva prima lui dell'Ucraina della guerra l'anno scorso tutti i miei vicini hanno detto cavolo quest'anno con la guerra il grano costerà che culo ne ho seminati due ettari in più ragazzi voi avete pagato più il pane il pane ha aumentato il costo al supermercato e non è più sceso ma il grano quest'anno se andate a vedere le borse lo trovate il prezzo del grano l'istino del grano è uguale è uguale a quello degli anni prima non si è mosso niente addirittura quest'inverno è calato di qualche euro al quintale chi l'ha tenuto dicono ma c'è gente che stocca il grano anche se ne ha delle piccole quantità aspetta a venderlo ma magari sai il mercato il prezzo del grano lo fanno a Chicago la famosa borsa del grano di Chicago ma ci sarà qualche aggiustamento sono partite le navi poi figurati un contadino delle colline che cazzo sperava che a Natale il grano come succedeva una volta salisse un pochetto no è sceso ancora quindi però nei supermercati non mi risulta che il pane sia calato perché il grano invece qualche parte ucraina o no è arrivato aggiungo giusto una cosa faceva degli esempi di organizzazione di socializzazione delle terre e io vi porto un attimo in poche parole quello che è a Mondeggi a riguardo dove ci sono quella è una terra pubblica in una situazione informale di organizzazione che è in transizione perché ci sono delle trattative con le istituzioni però finora qual è stato l'atteggiamento l'atteggiamento è il posto è grande ha delle risorse dei contadini pochi in presidio sul posto non sono sufficienti nel senso non sono nemmeno ideologicamente accettabili che abbiano tutto questo territorio distribuiamo distribuiamo la conseguenza è stata che abbiamo non so sono più o meno 140 particelle di oliveta da 35 40 piante in cui socialmente tutti insieme decidiamo come fare ognuno si propone per quanto può fare c'è chi lo fa da solo c'è chi è in gruppo così dipende un po' ci sono dei corsi di formazione ci sono dei lavori che fanno dei singoli per tutti quanti si fanno delle raccolte di per dei lavori particolari si fanno delle raccolte di soldi per le spese di frantoio per le reti degli arnesi collettivi e alla raccolta si mette il prodotto tutto insieme che ti abbia prodotto che non ti abbia prodotto perché magari c'è il punto sfigato cioè l'annata cambia di punto in punto e si stabilisce quanto totalmente abbiamo fatto si divide per il numero degli olivi e ognuno sa che è quella particella quell'anno c'hai 10 chili di olio quell'altro anno ce n'hai 40 fai un po' pari negli anni così però questo è per dirvi che con un'organizzazione assieme quelle 300 persone che poi di sicuro se usi in Toscana magari ci diamo un po' con il polso però metti che una famiglia con 20 litri in 5 persone ci fai l'anno abbastanza bene quindi l'annata che ti avanza o tu la regali o insomma ci farei qualcosa lo tieni per l'anno dopo non lo so però si riesce a organizzare un circuito di un migliaio di persone che utilizzano poi quell'olio qui vuol dire che conforme del genere te non stai dando a sardelli carapelli robe varie ti stai facendo un prodotto fatto insieme che quindi ha il suo aspetto sociale molto bello e di una qualità alta che non trovi facilmente se non quei prodotti di nicchia o magari ti vendono anche a 25 euro il litro non so cose del genere poi hai un bene di consumo invece che avere un sistema e lì abbiamo delle olivete che sono impostate per non avere lavoro umano capiamoci si sono rivoluzionati quelle sono piantate a monocoltura per andare a tagliare con una roba con un macchinario per andarle a scuotere e dopo 30 anni radere tutto per ripiantarle cioè quella è l'impostazione non è cambiata si è riportata a una forma dove il lavoro umano c'è insomma quello è un modo per cambiare dall'agroindustria all'essere contadini e per accedere a dei beni poi nel senso abbiamo occupato una terra per fare questo non è banale ci sono altre forme però con l'organizzazione ci si può arrivare se non ci sono altre domande chiudiamo qui anche se appunto rimangono tutti qui se volete poi parlarli anche più tardi e vi ringraziamo per essere qui ringraziamo tantissimo voi quattro per i contributi grazie grazie grazie